Il treno di Dante sarà riproposto anche nel 2022. 3.200 i passeggeri che hanno scelto un viaggio sul convoio storico nelle 28 giornate messe a disposizione quest'anno nonostante i limiti di capienza. Numeri che hanno convinto la società Treno di Dante, la Regione e Fondazione Ferrovia dello Stato italiane di riproporre l'offerta turistica anche il prossimo anno. Il biglietto acquistato dai viaggiatori dava anche la possibilità di visitare gratuitamente i musei e i monumenti in tutte le località toccate dal percorso, Firenze, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella, Faenza e Ravenna e uno sconto del 10% in tutti i ristoranti con aperitivo in omaggio. In particolare gli ingressi ai 20 musei sono stati 1914 e oltre 2100 i pasti registrati nei 19 ristoranti convenzionati, 9 diverse tipologie di escursioni e 9 pacchetti turistici ai quali si sono aggiunti i pacchetti dei vari operatori sul territorio. Molto successo perché intanto c'è questo treno storico che riporta un po' indietro nel tempo e poi c'è questa sensazione proprio di lentezza lungo questi paesaggi, questi borghi, questi territori davvero affascinanti e poi c'è naturalmente l'ombra di Dante Alighieri e quindi pensare di ripercorrere il tragitto che ha fatto il sommo poeta nel suo spostamento, nel suo esilio da Firenze a Ravenna, costruisce appunto un fascino importante a questo tipo di treno ma soprattutto a questo tipo di opportunità turistica, di offerta turistica che tiene insieme appunto diversi comuni, diversi operatori, delle vallate bellissime, quindi la scoperta di un territorio che dal punto di vista culturale, ambientale, e no gastronomico ha tanto da offrire e così si può visitare diciamo in maniera del tutto inedita, originale, con un mezzo lento, sostenibile dal punto di vista ambientale e quindi direi proprio una proposta azzeccata e una scommessa che abbiamo vinto e che riproporremo anche nel 2022. È una secondo me delle meglio riuscite esperienze di turismo ferroviario che penetrano le nostre meravigliose aree interne. Nella fattispecie qui c'è davvero tutto. Da Firenze un grande generatore di turismo, addirittura di sovraturismo, si va in luoghi di cultura, di una bellezza ambientale e di tradizioni, valicando l'Appennino e arrivando sulle sponde del mare Adriatico. Con il metodo, devo dire, più colto, più sostenibile, che ti consente di permearlo questo territorio, il treno storico, con il finestrino apribile, con le sue curve, le sue controcurve, le gallerie in pietra, tutto com'era un tempo. Ecco perché molto è stato fatto dalle ferrovie per restaurare questo enorme patrimonio storico, ma questa vincente congiuntura di imprenditoria, di agenzie viaggi, di amore direi per il proprio territorio, ha fatto i numeri che oggi abbiamo presentato. Devo essere sincero, una grande soddisfazione per la Fondazione Ferrovie dello Stato, una delle migliori integrazioni di terminalizzazione turistica, quando qualcuno scende l'ultimo predellino di legno dei nostri treni storici. Un prodotto nuovo che unisce, come abbiamo accennato, l'utilizzo di un treno storico ha la conoscenza di un territorio molto caratteristico, con tante curiosità, con tanti siti storici e soprattutto una linea ferroviaria, come non ce ne sono molte, che permette ai viaggiatori che la percorrono di attraversare l'Appennino vedendo dei siti, degli angoli molto caratteristici, molto belli, come è difficile vedere da altre parti, insomma con dei treni normali. Quindi è stato un prodotto, è un prodotto nuovo che abbiamo offerto con molto successo e molto riscontro anche all'estero e speriamo, noi contiamo di poterlo riproporre nei prossimi anni, magari migliorato, ampliato, con dei servizi in più, delle possibilità maggiori, ma soprattutto per me è quello che rimane fondamentale che questo deve essere un prodotto al servizio del territorio e quindi utilizzarlo per poter far conoscere meglio il territorio tra l'Emilia Romagna e la regione toscana attraverso l'Appennino tosco-romagnolo che non è così conosciuto come altre parti invece della Toscana e dell'Emilia e della Romagna ma che vale sicuramente la pena di essere visitato.